Vuoi saperne di più sulla storia delle scienze e delle tecniche per acquisire crediti formativi e partecipare a concorsi pubblici? La nostra Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ti dà la possibilità di seguire in modalità DAD il Corso di Storia della Scienza e della Tecnica, MSTO05. Alla fine del corso della durata minima di 75 giorni si conseguiranno 12 crediti formativi universitari nel settore scientifico disciplinare MSTO05. Vai su www.icotea.it, cerca corsi singoli, clicca Storia delle Scienze e delle Tecniche.